Sssh! E che cos'è la piazza qua? Che siamo in un tribunale? Mi? Ma dove? Causa 358. Cocozza contro la pergola. Silenzio! Entra la corte! Eh? Com'è? Hai regalato una cassa di champagne al giudice? Eh? Ma tu sei pazzo! E ride! Quello è una persona onesta! Quello non si arrabbierebbe la causa! Non la vinceremo mai! Vocà! Tranquillo! Tranquillo! Gliel'ho mandata a nome del Pubblico Ministero! Si fatti buono! Qualche bottiglia a me stai? Una bottiglia avanzata! Allora, visti gli atti dell'imputato Amaro Lucano... Mario Lucano, signor giudice, ce l'ha Amaro! Mario Lucano! Mario Lucano! Siccome guidava ubriaco, viene condannato a un mese di carcere! No, 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 che ubriaco? Direi tu! Che direi tu? Che è la banca! Giudice! Signor giudice! Signor giudice! Signor giudice, non ero ubriaco, io ero brillo! Sta scritto ubriaco! No, no signore, io non ero ubriaco, io ero brillo! No, da voi! Qua sta scritto ubriaco! Lo vuoi sapere meglio di me? Cioè io posso spendere la parola a difesa mia? Io non ero ubriaco, ero brillo! Scusate, signor giudice! Ah, eh sì, sì, ma certe volte... Gli errori di giustizia come vengono fatti per un non nulla! Vabbè, allora, cancella! L'imputato Mario Lucano, siccome guidava non ubriaco, ma brillo, Invece di essere condannato a un mese di carcere, lo condanniamo a 30 giorni di prigione! E' buona votata! E' buonissima! Questa è giustizia! Grazie, è tu!